Marco se mi dici dove parcheggiare io parcheggio perché piove tu mi hai detto la strada ma io non mi son persa signora guarda che ha sbagliato il numero Maria Maria chiedi a Marco sei Marco? no Maria dove è Marco? Maria per favore chiedi a Marco dove devo parcheggiare che sono in mezzo alla strada cazzo Maria Marco Marco senti sono qua sotto il 38 eh ok cosa vi devo dire io? dove devo parcheggiare sei sotto la pioggia eh parcheggio sotto la pioggia Marco ma ascoltami ma te dov'è che sei? cioè tu sei pronto? a riceverci? hai preparato tutto? certo certo ok allora ascolta dimmi dove metto l'autoveicolo oh lo metto sotto casa eh ma che numero deve andare? mi son persa Marco mi dici che cosa vedi intorno? si negozi tanti negozi Monza è bella eh Monza è bella wow ok giri a destra al 38? si al 38 e poi? giri a sinistra? hai capito? gira! eh Maria un attimo cazzo allora? uè che miseria io non so quale gente come vesta eh Marco Maria io ho girato a destra adesso Marco dove devo andare? parla a te dai calma parla a te parla a te perché è girata no no Maria guarda mi fa arrabbiare questo qua dove è che devo andare? per destra gira a destra ho girato a destra adesso? è di vieto è di vieto e cazzo Maria ho te che resumo ma porca miseria dove vado? Marco ma è senza uscita la strada Marco Marco scendi Marco scendi perché qua mi sento male no Mariano stai calma non fare così per favore eh Marco è chiuso no Mariano stai calma non fare così per favore eh quindi Grazie a tutti.